Ciao a tutti, il più grave errore è confondere amore, sesso, relazione, matrimonio, famiglia. Queste cinque cose non dobbiamo mai confonderle. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, il grave errore che fanno le persone, che porta le persone a soffrire, è confondere queste cinque cose, che sono cinque cose diverse. Hanno, diciamo, una base comune che è quella della vita, diciamo, relazionale in generale, sentimentale, chiamiamolo così, sessuale, ma sono cose diverse. È come dire, la frutta è frutta, però se prendo una mela, una pera, un'arancia, un melone e un cocomero, però, diciamo, sono, sì, appartengono alla tipologia della frutta, ma sono cinque cose diverse. Poi uno può mangiarne una, può mangiare l'altra, può anche mangiare tutte e cinque, non è questo il problema, ma sono cinque cose diverse, sono cinque frutti diversi. Allora, spesso le persone confondono questo, cioè pensano che se fai sesso ci deve essere anche amore, se c'è amore ci deve essere anche sesso, e se c'è amore e sesso ci deve essere una relazione, e se c'è amore e sesso è una relazione, ci deve essere poi il matrimonio o una famiglia, ma sono cose diverse, non c'entrano nulla. Confonderle porta a soffrire, perché l'amore, vediamo queste cinque cose che cosa sono. Allora, la sessualità è un'attività, punto, un'attività edonistica, che ha la spinta istintiva di raggiungere, la spinta istintiva è quella della sopravvivenza della specie, fondamentalmente, no? Perché è ovvio che, come dire, perché la natura ha reso piacevole il sesso, perché se l'avesse reso spiacevole noi ci saremmo istinti subito, no? L'ha reso piacevole perché in questo modo, inseguendo il piacere, le persone mantengono viva, diciamo, la specie, la specie umana in questo caso, ma anche la specie animale, non credo che animali soffrono facendo sesso, altrimenti non lo farebbero. Quindi, poi, però, da lì è venuto che, con l'evoluzione, diciamo così, perché inizialmente manco sapevano i nostri progenitori primitivi che dal sesso si riprocriavano, era l'istinto che lo faceva fare, che lo sapeva, insomma, perché un evento avveniva oggi e i primi sintomi che la donna fosse incinta erano dopo molti mesi, quindi, beh, è stata una scoperta relativamente recente quella, però, una volta che sta scoperta e stata fatta, si è slegata ancora la riproduzione dall'aspetto donistico, quindi, il sesso, se non viene fatto a fini riproduttivi, ha solo fini edonistici, edonistici vuol dire di provare piacere, è un modo comunato per sperimentare piacere, c'è qualcuno che prova piacere mangiandosi un gelato, c'è qualcuno che uno non esclude l'altro, ma fa parte dei piaceri della vita, punto e basta, è un'attività, punto e basta. Poi, l'amore che cos'è? L'amore è il desiderare che l'altra persona possa essere felice. Ora, poi spesso l'amore si confonde con l'attaccamento, no? Perché comunque, diciamo, nell'amore c'è il pathos, c'è l'emozione, c'è il vivere un'emozione fondamentalmente. Teoricamente, è come dire, dovrebbe essere il desiderare che l'altra persona possa essere felice, punto. Ma, di solito, c'è anche, diciamo, il pathos che viene fuori, l'emozione che viene fuori. E questo è un altro dato di fatto. Dobbiamo tenere presente che si può amare, si può avere pathos, si può desiderare che l'altra persona sia felice, senza fare sesso. Sono due cose slegate. Oppure, possono essere unite, ma non è detto che siano unite. Altro discorso è la relazione, la relazione. Avere una relazione con una persona. Avere una relazione con una persona, nel senso di avere una storia, cioè vedersi, come dire, anche per andare, che ne so, a vedere il museo, a fare la passeggiata, a, che ne so, a fare qualcosa assieme. Ma, questo è anche un'altra funzionalità ancora. La funzionalità relazionale dell'essere umano, molte persone, e questo è un modo per superare la paura della solitudine. Ah, sono in compagnia, ho una persona con la quale posso passare del tempo, no? Ci sono persone che, anche se sono giovani, dicono, ah, voglio la mia vecchiaia, voglio avere una persona a fianco. Insomma, è un mutuo soccorso, fondamentalmente, alla relazione. La relazione è un'operazione di mutuo soccorso. Come dire, una mia nevrosi che, una mia paura, che viene compensata da una tua paura, e una tua paura che compensa la mia. Insomma, una cosa reciproca. È una compensazione nevrotica reciproca, possiamo definirla così. Cioè, nel senso, il bisogno, per carità, è una relazione specifica, no? Avere la sicurezza che quella persona c'è nel tuo... È un bisogno di sicurezza, fondamentalmente. È il soddisfacimento di un bisogno di sicurezza. Sapere che c'è... Quindi sei insicuro e avere una persona al tuo fianco ti può rendere più sicuro. Ma al di là di quello, quella è la funzione, diciamo così. Perché se no, uno, ovviamente, siamo esseri umani, ci relazioniamo comunque con le persone, no? Di fatto, cioè, non puoi non relazionarti. Vai a fare la spesa, vai al supermercato, parli con uno, nei social, le relazioni ci sono, è inevitabile, no? Volere una relazione specifica soddisfa quel bisogno lì, per carità. Quindi tu puoi soddisfare quel bisogno senza aver bisogno di fare sesso, senza aver bisogno di innamorarti, beh, è un altro bisogno. Altro discorso è il matrimonio. Il matrimonio è una relazione ufficializzata, diciamo, attraverso un atto notarile, un contratto. Che cosa serve? Non mi fido tanto che questa persona possa restare con me, allora facciamo un bel patto, in modo tale che se per caso si scioglie questo patto, io comunque avrò i miei benefits. Questo vale soprattutto per la parte più debole. Il matrimonio è un contratto economico, punto, in cui la parte più debole economicamente è per qualche verso tutelata. Poi dipende un po' da come viene fatto. Negli Stati Uniti, diciamo, ci sono le clausole post-divorzio in cui definiscono già prima cosa succede, no? Quando la coppia si separerà. In Italia non credo che sia prevista questa cosa, c'è, non so, una legge, non so, comunque il concetto di fondo è quello, è una forma di garanzia, tra virgolette, per la parte economica più debole. Non è altro il matrimonio che questo, diciamo così. La famiglia è un qualcosa ancora di diverso. La famiglia è l'esigenza, diciamo, famiglia inteso nel senso di avere dei figli, di riprodursi, quindi, è un'esigenza ancora diversa. È un'esigenza che risponde a un bisogno, delle donne, ma talvolta anche degli uomini, della maternità o della paternità, cioè di diventare madre o di diventare padre. Questo per quale motivo? Beh, intanto c'è una spinta istintiva che è la riproduzione, diciamo così, che è la, diciamo, la conservazione della specie. È una spinta istintiva, perché noi dobbiamo tenere presente che oggi, diciamo, a livello globale siamo in troppi, veramente siamo in troppi, cioè siamo 7 miliardi e fischia, 7 miliardi e 6, 7 miliardi e 7, quello che siamo, non lo so. Le previsioni sono 2050-12 miliardi, quindi con le risorse energetiche già non bastano oggi, perché oggi noi, forse non tutti lo sanno, ma a luglio, circa, più o meno, adesso a luglio, abbiamo già consumato tutte le risorse che il pianeta ci può offrire in un anno. Quindi abbiamo già consumato più, quindi adesso che siamo a settembre, per dire abbiamo già consumato più di quello che il pianeta ha prodotto in quest'anno. e quindi già consumiamo cose che non riusciranno a rigenerarsi, perché siano in troppi. E quindi ci saranno problematiche di acqua, insomma, problematiche, quindi, vuol dire, riprodursi dovrebbe essere disincentivato, perché, vuol dire, beh, in Europa magari non c'è tutta questa grande riproduzione, però si dice che la popolazione terrestre se fossimo veramente per essere tutti, stare bene con la tecnologia che abbiamo oggi dovrebbe essere circa un miliardo, un miliardo di persone con la tecnologia sviluppata, quel miliardo di persone potrebbe stare bene perché tanti lavori poi andando avanti più umili, diciamo così, li potrebbero fare le macchine e quindi potrebbe essere, e comunque, quindi la famiglia è un'esigenza ancora diversa, un'esigenza di immortalità. come dire, io morirò ma il mio patrimonio genetico andrà avanti, è un altro bisogno che hanno l'istro umano. Ora, sono cinque cose che sono completamente slegate, il problema qual è? Che quando vogliamo unificarle, casualmente potrebbero anche essere sovrapposte, ma non è una regola, se uno fa sesso e pensa, ah, se fa sesso allora mi ama, quindi vorrà avere una relazione, quindi vorrà sposarsi, quindi vorrà avere dei figli con me e stai fantasticando perché magari fa sesso e punto e basta e non vuole fare nient'altro, vuoi dire, no? E quella è la cosa, no? Quindi bisogna imparare a discernere, discernere le situazioni e godersi il momento oppure può essere una relazione, ad esempio, ci può essere una relazione e non ci può essere sesso, ad esempio, quante persone, beh, ci può essere matrimonio senza sesso, relazioni senza sesso, quante persone stanno insieme e non fanno più sesso e magari non si amano neanche più, cioè non provano neanche più il pathos, non provano neanche più niente, ma stanno assieme perché? Per soddisfare gli altri bisogni. Quindi, imparare a vedere le slegate dà la possibilità di interagire molto meglio e di non soffrire soprattutto e di non creare aspettative inutili, veramente aspettative inutili che non hanno senso. bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale. Ciao a tutti!